Negli ultimi 20 anni l'azienda è cresciuta grazie alla crescita del proprio personale, abbiamo investito in macchine, ma soprattutto abbiamo investito in gente giovane che voleva crescere e che ci ha portato una nuova energia. Questa energia si può vedere visitando la fabbrica, si può vedere parlando con le nostre persone, si può vedere dei nostri prodotti, si può vedere dai risultati che abbiamo ottenuto. Negli ultimi anni abbiamo spinto molto sulla tecnologia e quindi su equipaggiamenti di primissimo ordine, sicuramente poi abbiamo dato una spinta al Made in Italy in quanto la nostra politica è quella di fornire le nostre fabbriche all'estero con tutta una componentistica italiana che ancora oggi penso che in qualità e prezzo sia la migliore del mondo.